calderone a scilla racconta il lavoro dopo il reddito di cittadinanza la titolare del ministero del lavoro già processate oltre 10.000 domande sulla nuova piattaforma oggi a scilla la convention di acr il partito dei conservatori europei a cui aderisce anche fratelli d'italia il pd riparte dalla festa regionale di vibo valencia presenti sindaci amministratori locali dirigenti regionali e nazionali del partito democratico la festa sarà conclusa domani sera dalla segretaria nazionale ellis line ragazzino rapito per estorcere denaro allo zio è accaduto a vibo valencia intervento degli agenti della polizia di stato insieme ai militari dei carabinieri della guardia di finanza arrestati quattro soggetti di cui uno è un presunto scafista chiude il calcio mercato il bilancio delle calabresi cosenza sorprendente a visti i precedenti per il catanzaro finale senza colpi ad effetto voto alto al mercato rosso blu con gli ingaggi di forte e canotto l'addio a corsi florenzi resta per i giallorossi la novità e miranda ben ritrovati nuova edizione dell'altro corriere tg come sempre un saluto dalla nostra redazione apertura che dedichiamo ad un'ampia pagina di politica iniziamo dalla convention e cr il partito dei conservatori europei qui aderisce anche fratelli d'italia il partito della premier giorgia meloni organizzato a scilla il tema quando cresce il sud cresce l'italia cresce l'europa e questo appunto il titolo dell'evento organizzato a scilla che oggi ha visto la presenza tra gli altri anche della ministra del lavoro marina calderone tra i temi affrontati reddito di cittadinanza il ponte sullo stretto ovviamente il salario minimo e il pnrr ma sentiamo i dettagli nel primo servizio in calabria il dibattito sul futuro del sud ascilla la convention dei conservatori con i ministri calderone l'olobrigida fitto e musumeci presente anche una delegazione dell'estrema destra di vox il tema del lavoro apre il dibattito è partita ieri primo settembre la nuova piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativa questa mattina alle nove le domande erano già più di 10.000 quasi tutte completate la ministra del lavoro marina calderone sottolinea fiera i primi risultati ottenuti dopo il tanto criticato stop al reddito di cittadinanza per noi un ulteriore conferma certezza del percorso però c'è anche interesse da parte di chi ha pensato nelle prime ore di partenza del nuovo sistema per l'inclusione sociale e lavorativa di fare una domanda all'interno di questo percorso noi abbiamo inserito la sinergia tra tutti quelli che sono gli attori principali del mondo del lavoro vuol dire il ministero del lavoro l'inps e le regioni interessanti i dati sull'età media dei candidati la figura diciamo l'identikit di chi in questi giorni sta facendo domanda ci restituisce la visione di un cittadino italiana un cittadino che ha un'età media di 40 anni e che quindi per quello che è il nostro pensiero deve essere sostenuto a trovare un lavoro e non un sussidio a vita è giusto cominciare la nuova stagione politica dalla calabria questo lo ha detto proprio a margine dell'incontro Ascilla l'euro parlamentare di Fratelli d'Italia e co-presidente di ECR Nicola Procaccini sentiamo perché l'Unione Europea non è semplicemente un insieme di regole di bilancio è per noi innanzitutto un'identità culturale e questa identità si è forgiata qui si è forgiata alle mie spalle e quindi penso sia bello penso sia giusto che questa stagione politica che ci porterà alle elezioni europee parta da qui parta dalla Calabria che chiaramente è una terra che non ha soltanto bellezze ma ha anche alcuni problemi da risolvere e su questo penso che l'Unione Europea possa aiutare naturalmente poi sarà a noi saper cogliere le opportunità e continuiamo come promesso con l'ampia pagina dedicata alla politica andiamo adesso a Vivo Valencia dove è iniziata la festa regionale del PD presenti ieri diversi sindici e amministratori locali ma anche dirigenti regionali e nazionali del PD nel primo incontro in attesa dell'arrivo domani sera proprio a Vivo Valencia della segretaria del PD Elish Line E' iniziata ieri pomeriggio in piazza Municipio a Vivo Valencia nell'ambito di un'estate definita militante la festa regionale del PD che si concluderà domenica con la partecipazione della segretaria nazionale Elish Line un'iniziativa che punta sul confronto e sulla discussione non solo per aumentare la partecipazione dei cittadini ma anche per costruire una proposta politica e di governo alternativa al centro-destra i primi due incontri sono stati dedicati al PNRR dal tema dell'autonomia differenziata con la partecipazione di sindaci, esperti e dirigenti del PD forte il richiamo sui tagli al PNRR evidenziata la penalizzazione del sud per ogni cittadino veneto sono stati tagliati 129 euro per ogni cittadino lombardo 136 e ben 489 euro per ogni cittadino calabrese Preoccupato l'allarme è lanciato anche sull'autonomia differenziata con il richiamo ad una necessità occorre bloccare il DL Calderoli Sì, una tre giorni impegnativa ma importante per il PD e non solo abbiamo iniziato con PNRR e autonomia differenziata si continuerà con sanità, con libertà di informazione, salario minimo in cui raccoglieremo anche i contributi di tutte le forze alternative alla destra dal Movimento 5 Stelle, ad Aziona, a Sinistra Italiana, ai sindacati, CGL e UIL insomma una serie di attori politici per creare un'alternativa in Italia e in Calabria Stiamo lavorando su questo, il Partito Democratico con la segreteria regionale ci ha lavorato, un grazie al partito di Vibo e a tutti i volontari che ci hanno lavorato per creare un momento di confronto, di dibattito e soprattutto aperto ai cittadini e la bellezza poi e l'importanza di questi tre giorni sarà la chiusura di Elish Line domenica 3 a Piazza Municipio a Vibo alle 19.30 Spazio adesso alla cronaca andiamo a Vibo Valencia per la fine di un vero e proprio incubo per un minorenne un ragazzino rapito da quattro banditi per costringere suo zio a scucire del denaro ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia di Stato insieme ai militari dei carabinieri della Guardia di Finanza sotto la direzione della Procura di Vibo Valencia ma anche quella dei minorenni di Catanzaro sentiamo la vicenda un incubo finito grazie all'intervento delle forze dell'ordine un rapimento a scopo di estorsione durato poche ore con un minore trattenuto da quattro malviventi per costringere suo zio a scucire del denaro il 29 agosto agenti della Polizia di Stato insieme ai militari dei carabinieri della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto quattro soggetti di nazionalità straniera per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione uno degli arrestati anche ritenuto responsabile di condotte illecite di trasporto di stranieri all'interno dello Stato italiano posta in essere al fine di favorire e realizzare l'ingresso illegale in Italia alle 18 circa della 29 agosto gli agenti della squadra volante sono intervenuti in località Portosalvo assieme a militari della Guardia di Finanza e dei carabinieri dopo una richiesta di intervento per una situazione che vedeva coinvolto un soggetto minorenne di nazionalità straniera rapito da altri connazionali il ragazzino era stato sequestrato da quattro connazionali di cui due minorenni che in precedenza avevano cercato di estorcere allo zio di questi del denaro minacciandolo che senza la corresponsione di quanto domandato non avrebbe più rivisto il nipotino uno dei quattro arrestati è risultato autore di un'attività di trasporto illecito di esseri umani che nell'attuale fase trovano ospitalità presso l'hub di Portosalvo giunti domenica 27 agosto a bordo della ONG Ocean Viking Lasciamo la cronaca, cambiamo decisamente argomento inizio del nuovo anno scolastico fissato in Calabria per il prossimo 14 settembre ma è già tempo di fare i conti tra l'acquisto del materiale scolastico e ovviamente il rincaro dei libri e soprattutto bisogna fronteggiare quello che è il fenomeno della dispersione scolastica La finalità dovrebbe essere quella di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e scritto nero su bianco nell'avviso pubblicato dalla Regione Calabria in relazione alla possibilità di ottenere un bonus di 200 euro per l'acquisto di materiale per la scuola Previsto con fondi stanziati dal governo il contributo potrebbe rappresentare un'agevolazione importante per andare incontro alle esigenze delle famiglie in un periodo sicuramente non facile dal punto di vista economico e in cui l'acquisto di quaderni, penne, matite, zaini e libri può incidere fortemente sul bilancio familiare Ogni Regione ha pubblicato un bando a disposizione dei comuni, delle scuole e delle famiglie con requisiti e scadenze diverse per richiedere l'agevolazione In Calabria la scadenza è stata prorogata fino al 9 settembre L'agevolazione è destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ma a colpire sicuramente è la differenza di requisiti richiesti rispetto ad altre Regioni Le famiglie calabresi non dovranno superare la soglia dei 6.000 euro di ISEE per sperare di ottenere il contributo mentre in altre Regioni come Lazio, Toscana, Campania o Sicilia la soglia ISEE varia dai 10.000 ai 15.000 euro In Calabria dunque la soglia è tra le più basse se non la più bassa non permettendo a tante famiglie di usufruire di un prezioso contributo in un periodo come detto non facile e in un anno in cui secondo uno studio di FederConsumatori la spesa media per l'acquisto dei libri scolastici sarà di oltre 500 euro per ogni alunno registrando un aumento del più 4% rispetto all'anno precedente E a proposito dell'inizio del nuovo anno scolastico e delle problematiche relative appunto a quello che è il caro libri fra tutti per le famiglie calabresi ascoltiamo quelle che sono le considerazioni di Mimmo Denaro della FLC CGL rilasciate per noi alla Corriere della Calabria 6-7% il percorso dei libri già rispetto all'anno scorso è quasi raddoppiato perché nella scuola media inferiore e nella superiore siamo uno spesa media che può andare a 700-900 euro e questo significa che una famiglia con due ragazzi che si iscrivono al primo superiore praticamente si parla di più di un mensile quindi è un problema serio molti ricorreranno per cercare di risparmiare i privi usati quindi c'è il mercato del blader usato abbiamo avuto qui il ministro valditare il 9 giugno che ha annunciato Agenda Sud ma è una roba che ancora è ferma il 9 giugno quindi da via ad oggi non sappiamo nulla oggi ha fatto un altro annuncio però oltre che a fare questi annunci cioè concretamente ancora non l'abbiamo visto non l'abbiamo visto poi rispetto anche all'impegno che c'era stato sulle 140 scuole per la Gersud destinatari di una prima trance di finanziamenti non l'abbiamo visto nulla e queste sono misure che quando nella direzione proprio di contrastare la dispersione scolastica che in parte può essere anche alimentata e peggiorata e quindi disincentivata diciamo da queste anche situazioni che si vengono a creare e che hanno a che fare poi con un contesto che ovviamente favorisce purtroppo anche il verificarsi di queste situazioni ma qui il tema fondamentale poi sostanzialmente è quello del grande cavo demografico che provocherà effetti devastanti da qui a qualche anno Voltiamo ancora pagina spazio adesso allo sport e al calcio perché ieri sera alle 20 si è chiusa la finestra estiva del calcio mercato con gli ultimi affari ovviamente per le squadre calabresi pochi botti per il Catanzaro più movimentato sorprendentemente invece il mercato del Cosenza sentiamo Finale di mercato col botto per un Cosenza calcio mai così attivo nei precedenti 5 anni di B due gli ingaggi di alto livello dal Frosinone è arrivato l'esterno d'attacco Luigi Canotto di 29 anni lo scorso anno alla regina mentre dall'Ascoli il DS Gemmi ha preso l'attaccante trentenne Francesco Forte elementi di indiscusso valore che vanno a rinforzare il reparto offensivo rosso-blu che già poteva contare su Gennaro Tutino salutano invece D'Urso e Corsi più sottotono almeno nella giornata conclusiva ai movimenti di mercato del Catanzaro che ha portato a termine una sola trattativa con l'arrivo in prestito dal sassuolo del difensore Kevin Miranda tanti giovani interessanti per Vivarini e il suo Catanzaro matricola temibile della Serie B non hanno trovato sistemazione e restano in giallorosso Bombaggi, Curcio e Welbeck nel complesso le operazioni di mercato delle due calabresi di B possono ritenersi soddisfacenti con un voto per entrambe che va oltre il 7 in pagella ora però la parola passa ovviamente al campo di gioco in Serie C invece il Crotone nell'ultimo giorno di campagna Acquisti ha messo a segno tre colpi torna in rosso-blu Andrea Del Rico arrivano anche il centrocampista brasiliano Di Stefano e l'esterno d'attacco croato Jurcec Ancora il calcio con le partite di Serie B è il Cosenza che incrocerà il Brescia dopo l'ultima spida non priva di polemiche nei play-out lo scorso giugno Brescia tra l'altro proprio ripescato in questi giorni in Serie B dopo l'esclusione ormai ufficiale dopo la sentenza del Consiglio di Stato della Regina Noi veniamo da due partite dove abbiamo speso tanto come ha detto lei il Brescia non ha mai giocato una partita ufficiale tranne qualche amichevole però noi ci dobbiamo preparare bene dobbiamo pensare che sarà una gara difficilissima perché loro hanno tenuto tanti giocatori dell'anno scorso in questi giorni di mercato hanno fatto degli acquisti importantissimi per la Serie B noi dobbiamo andare concentrati dobbiamo andare sapendo che sarà una gara dove ci saranno dei momenti dove bisogna soffrire dove ci sono dei momenti dove bisogna fare le cose che sappiamo fare e non commettere gli errori che abbiamo fatto nelle precedenti partite però la squadra a mio avviso sta bene fisicamente quindi ha recuperato bene valuterò domani chi fa giocare dall'inizio e poi avendo sempre cinque cambi riesci sempre a modificare una squadra quasi la metà dei giocatori li cambi fino ad oggi i giocatori che hanno giocato dall'inizio e che è subentrato ha sempre dato un contributo importante alla squadra quindi dobbiamo continuare così perché io continuo a ripetere che secondo me sono importanti i titolari ma sono spesso e volentieri più importanti che subentrano Ancora calcio, sfida esterna invece per il Catanzaro di mister Vivarini contro il Lecco rientegrato anche lei in Serie B dopo la sentenza del Consiglio di Stato Questa partita sicuramente riserva delle incognite abbastanza alte perché comunque ancora non hanno mai giocato come partita ufficiale quindi di conseguenza abbiamo pochi riscontri per valutare un po' le qualità di questa squadra e anche l'assemblamento della squadra è stata fatta magari adesso quindi di conseguenza non sappiamo bene nemmeno a livello di individualità quale potrebbe essere la loro migliore formazione quindi di conseguenza ci sono tanti punti interrogativi sicuramente troveremo una squadra con grandissimo entusiasmo perché comunque per loro è qualcosa di eccezionale quindi di conseguenza ed è stata anche secondo me la forza dell'anno scorso che ha avuto questa squadra perché comunque hanno lottato su ogni pallone quindi io mi aspetto una partita complicata sotto questo aspetto e quindi noi dobbiamo essere molto bravi e fare le nostre cose con queste difficoltà Con il calcio si conclude l'edizione del nostro TG grazie per la vostra cortese e attenzione vi lascio adesso ai programmi dell'altro Corriere TV buon proseguimento a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti.